Buongiorno a FTA online, partenza positiva questa mattina per la borsa, Fuzzimibi rialza del 0,7% circa a 22.497 punti, quindi siamo molto vicini a resistenze importanti e sull'indice potrebbero quindi esserci delle sorprese già nel corso della seduta di oggi, se andiamo a guardare infatti ci accorgiamo che nel corso delle ultime settimane i prezzi si sono mossi in una fase sostanzialmente laterale e la resistenza data dal lato superiore di questa fascia corrisponde come in massimo nel 9 settembre a 22.448 punti circa, quindi in questo momento saremo al di sopra già di una cinquantina di punti rispetto a questo livello di resistenza e quindi questa è una situazione che se confermata anche oggi in chiusura di seduta potrebbe dare il segnale di sblocco della fase laterale in favore della ripresa del trend rialzista che c'è stato dai minimi dello scorso agosto, c'è da notare che anche in caso di segnale positivo sarebbero necessarie poi ulteriori conferme prima di poter parlare di una vera e propria ripresa del trend rialzista perché come vediamo al di sopra dei massimi di settembre ci sono due resistenze importanti, il 61,8% di rifiacciamento di tutto il ribasso dai massimi del mese di luglio che si posiziona a 22.650 punti e successivamente il lato alto del canale che parte dai minimi di agosto a 22.800 punti circa. Nonostante questo la rottura di area 22.450 che l'indice sta operando questa mattina è un segnale decisamente interessante anche perché nel corso della fase calante l'indice si è lasciato alle spalle il 12 agosto un gap che probabilmente i prezzi vorranno ricoprire prima di decidere eventualmente quale sarà la mossa successiva e quindi il ritorno sui 23.700 punti che sono il lato superiore del gap appare in questo momento molto probabile. Se invece la chiusura di oggi dovesse riposizionare i prezzi al di sotto dei 22.450 punti rimarrebbe il dubbio di essere in una fase laterale confermata e quindi con il rischio a quel punto dopo la falsa rottura di andare ad intercettare la base dei due gap che si sono aperti nella fase crescente, quindi quello del 5 di ottobre con una base sui 21.550 punti e successivamente quello del 30 di settembre con una base a 20.905 punti. Tra i titoli interessanti oggi c'è Prismian, su Prismian Goldman Sachs ha tagliato il target price da 23 Euro a 22 Euro e con un giudizio neutral notiamo però che anche i 22 Euro sono molto al di sopra dei prezzi attuali di 19 Euro circa, quindi c'è un iscritto spazio di crescita, il titolo questa mattina ha superato quota 19, anche in questo caso ci stiamo muovendo in una fase sostanzialmente laterale da molto tempo, il lato inferiore della fase laterale è nettamente individuabile intorno ai 17,75 Euro, quello superiore potrebbe essere individuato intorno ai 21 Euro facendo una media degli ultimi massimi, in ogni caso quindi ben al di sopra dei prezzi attuali e l'impressione è che visto i molteplici tentativi di rimbalzo che il titolo ha disegnato dopo aver toccato sia ad agosto che a settembre i minimi dello scorso maggio, l'impressione è che il test almeno di 21 Euro possa essere un percorso assai probabile, possibile anche il raggiungimento di area 22, quindi in prossimità dei massimi dell'anno che sono stati toccati a 22,35 Euro. In termini di medie mobili, se andiamo a guardare quella 100 giorni, quindi quella che identifica, sintetizza la condizione della tendenza di medio termine, ci accorgiamo che funziona in questa fase da resistenza intorno ai 19,88 Euro e quindi è quella la resistenza da battere per avere segnali di conferma della fase positiva con estensione verso i target che abbiamo indicato. Si potrebbero quindi già avviare posizioni d'acquisto sui livelli attuali, andandole poi a incrementare al di sopra dei 19,90 Euro con un target almeno fino a 21 Euro. Se invece dovessimo scendere al di sotto della media mobili a 200 giorni, che i prezzi hanno lavorato nel corso delle ultime giornate e che oggi passa a 18,96 Euro, in quel caso suggeriamo di acquisire nuovamente un atteggiamento prudente, perché sarebbe possibile il ritorno sulla base del trading range a 17,75 Euro. Ci occupiamo adesso di un titolo minore in termini di volumi di scambi, ma sicuramente interessante, Danieli, che per Chevrolet ha alzato il giudizio per Danieli da Holda Bai, dopo che la società settimana scorsa ha organizzato un Investor Day, tra l'altro con molta visibilità, visto che c'è stato anche il premio a Matteo Renzi e il titolo si sta preparando per un movimento che potrebbe essere interessante, notiamo infatti la creazione di un doppio minimo tra fine agosto e fine settembre con una base poco al di sotto di 17 Euro, la figura è stata completata con il superamento del picco del 17 settembre a 18,30 Euro, all'area di resistenza è divenuta tra l'area di supporto ed è stata toccata dai minimi di venerdì, ha toccato intorno ai 18,20 Euro, questa mattina Danieli ha già salito a 19,36 Euro, siamo quindi al di sopra dei massimi che i prezzi hanno toccato il 13 d'ottobre a 19 Euro circa, l'impressione che si è partito un movimento di correzione di tutta la fase di bassista che i prezzi hanno disegnato dai massimi di aprile con obiettivi quindi che probabilmente sono individuabili intorno ai 20,50 Euro, 50% di ritracciamento del ribasso dai massimi dell'anno, anche in questo caso le medie mobili possono essere di aiuto, quella 100 sedute è stata superata nelle ultime due settimane, i prezzi ci hanno lavorato attorno, ritestandola poi dall'alto proprio nella ultima seduta di settimana scorsa e anche in questo caso quindi il segnale positivo verrebbe confermato e sostenerebbe l'ipotesi dell'avvio di una fase crescente sostenuta dalla presenza del doppio minimo. Se dovessimo ritornare invece nuovamente a di sotto di area 18,30 Euro, ci sarebbe in quel caso un rischio di avvio di una fase negativa con obiettivi potenzialmente fino nuovamente alla base del doppio massimo, quindi poco a di sotto dei 17 Euro. Rimaremmo comunque in questa fase positivi, comprando già sui livelli attuali ed andando ad incrementare le posizioni a di sopra dei 19,70 Euro per un test come abbiamo detto di area 20,50-20,60. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo buona giornata e vi diamo appuntamento per il commento giornaliero di domani alla stessa ora, grazie.